Francesco Borelli Chi era? Una domanda che è giusto fare a chi Francesco l'ha conosciuto. Sono fatti a parlarne con... Iago Gremigni, attualmente ancora nella squadra di Firenze e ai tempi in cui eravamo compagni di squadra ho giocato anche con Francesco. Qual è stato? Sì, posso ricordare Francesco nei momenti belli che abbiamo passato insieme. Sicuramente un amico, un compagno di squadra. Tanti momenti felici passati insieme, tanti ricordi belli. E poi purtroppo all'improvviso è un grande voto. Questo è il mio saluto. Grazie. Sono a parlarne con... Jacopo Fanelli E qual è il tuo ruolo nella squadra? Tallonatore Sei tallonatore. Qual è stata la tua esperienza con Francesco? Ci vorrebbe una giornata. Tante, tante, tante esperienze e tanti ricordi. Perché Frenchina era chi forse incarnava meglio il principio per cui si è regbisti dentro al campo ma anche e soprattutto fuori. Ci sarebbero un sacco di storie da raccontare ma non credo che diverse di queste potrebbero nemmeno andare in televisione. Rappresentava forse meglio di tutti la coesione che parte fuori dal campo per poi rispecchiarsi in campo in maniera a volte ossessiva. Ricercava la compagnia e lo stare insieme. Era il nostro mediano di mischia, il che vuol dire, tradotto, che è un soggetto di dimensioni piuttosto piccole e comanda a bacchetta otto piuttosto grossi. E nonostante questo il nostro sport ti impone di star zitto e ubbidire. Per cui per un uomo di mischia il mediano di mischia è un punto di riferimento. E lui sicuramente lo è stato per noi. Era una persona... sarebbe troppo lungo da spiegare ma era sicuramente una persona speciale se no oggi non saremmo qui a parlarne. Ti ringrazio. A te. Sono a parlarne con... Mattia Chiostrini, pilone sinistro. Ok, quale è stata la tua esperienza con Francesco? Francesco è stato uno dei primi che mi ha portato dallo giovanile a conoscere quelli della prima squadra. Loro erano in Under 21 quando io giocavo in Under 16 e poi ci hanno coinvolto in tutto questo gruppo di primi amici piuttosto che squadra e poi squadra in campo. Frenchi era anche uno che ha 85 kg e ha ribaltato tre volte di fila la terza centro della Lazio e se ne è andato con la coda fra le gambe. Quindi era un esempio in campo e fuori. Per me era questo. Grazie. Sono a parlarne con... Niccolò Falleri, sono mediano di apertura e estremo della Fregby Firenze 1922. Frenchi si può dire veramente tante storie però forse una meglio di tutte spiega quello che è stato per me e che era per il nostro ambiente. Io ho esordito in prima squadra a 18 anni e pochi mesi. Dopo la prima partita, il martedì successivo, la domenica, mi ha chiamato, mi ha invitato a casa sua, mi ha fatto una bistecca. E poi siamo stati a chiacchierare all'incirca un paio d'ore con una bottiglia di vino. Poi siamo usciti e quello è stato il suo modo di dirmi benvenuto in prima squadra. Questo è quello che è stato per me e questo è quello che è stato per me. La passione e l'amore con cui cercava di trasmetterci tutti i valori che i ragazzi hanno detto prima. E soprattutto mi ricordo una cosa che quando giocavamo le partite noi più piccoli non mancava mai. Anche se non venivano tutti i ragazzi della prima squadra, lui veniva prima da solo, si metteva in tribuna e aveva sempre una parola di conforto. Aveva sempre voglia di darci una mano anche fuori dal campo nonostante non giocassimo insieme. E appunto, qui dentro siamo una famiglia, quindi chi è più grande dà sempre una mano a chi è più piccolo per crescere e diventare un regmista. Questo è quello che mi ricordo in Francia. Grazie. Prego. Sono a parlarne con? Andrea Cerchi. E cosa fai nel Firenze Reg di 1931? Faccio... ho fatto tutto. Devo dire, ho iniziato da bambino e ora faccio l'allenatore della seconda squadra, della Desieme. E qual è stata la tua esperienza con Francesco? Penso con Francesco la mia esperienza è stata di tutta la vita perché in realtà Francesco fin da bambino era un ragazzo e faceva parte dell'arredamento di questo ambiente. Gli piaceva tanto stare con chiunque, con i vecchi, con i ragazzi, con tutti. Era un compagnone, così che era sempre qui. Diciamo era, tra virgolette, conosciuto da tutti e amato da tutti. Infatti, quando è successo la storia sua è stato veramente un lutto per tutto l'ambiente. perché era un personaggio importante di questo ambiente. Ti ringrazio. Prego. Grazie. 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 Grazie.